Sei alla ricerca di un corredo fotografico poco impegnativo? Segui con attenzione questo video perché andrò a farti vedere dei prodotti che non ho ancora mai portato su questo canale. Prima di cominciare vorrei ringraziare lo staff di Canon per avermi dato la possibilità di testare questi prodotti. Se volete far vedere a me e a loro che questo tipo di contenuti vi piace, lasciate un like a questo video. Canon mi ha mandato questa bellissima box contenente ben tre prodotti di cui andremo a fare l'unboxing durante questo video e poi ne parleremo e proseguiremo il discorso anche nei video successivi. Motivo per cui vi invito a iscrivervi subito così fate capire a me che questo tipo di contenuto vi piace, alla casa fate vedere che ha fatto bene a mandarmi qualcosa e quindi che le nostre collaborazioni possono proseguire. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, utilizzo strumentazione Canon e quindi nel corso di questo video potrò sembrarvi di parte perché a me piace la strumentazione Canon, sono contento che mi abbiano mandato qualcosa da provare. Io già uso tutta la loro roba quindi non credo ci sia bisogno di dire che a me piacciono i loro prodotti. Se vedete che se vi sembro di parte durante un video in cui parlo di prodotti che mi sono stati mandati, in realtà mi piacciono lo stesso tant'è che pezzi ben più belli di quelli che andremo a vedere oggi me li sono anche comprati di tasca mia. Ora, io so benissimo che i creator su YouTube devono avere dei coltelli da caccia al dino ma noi andremo a utilizzare semplicemente questo piccolo taglierino per fare il nostro unboxing. Questo perché io non sono un cacciatore ma anzi ho lavorato in tipografia e quindi preferisco una strumentazione lievissimamente meno vistosa. Adesso lo mettiamo via perché nonostante le sue dimensioni è assolutamente letale. Molto bene, andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro. Innanzitutto vi posso dire una cosa. Qui a me sembra di vedere dei sacchettini imbottiti che sono una cosa molto caruccia secondo me da vedere. Infatti, ok, vedete? Sacchettini imbottiti, sembra Natale proprio. Andiamo un po' a vedere Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro e qui dentro nella fattispecie c'è un caricabatterie per la batteria che andrò a trovarmi in dotazione, suppongo. E cos'altro abbiamo qui dentro? Ah, ma così non vale. Abbiamo già trovato il corpo macchina quindi andiamo subito al pezzo principale. Allora, io adesso cerco di farvela vedere. Spero che riusciate a vederla bene. È piccola, eh? La prima cosa che possiamo vedere è che è piccola. Per me è decisamente piccola. Vedete che il mignolo è fuori. E la prima cosa su cui mi casca l'occhio allora io ho sentito parlare di questa macchina ho guardato qualche spec così a caso la prima cosa su cui mi casca l'occhio è che abbiamo un monitor vecchia maniera quindi non è un monitor tiltabile. Questo può essere un limite in certi casi può non fregarcene niente. Per il resto devo dire che seconda cosa come prima impressione il grip non è malvagio, eh? Certo, non è il grip di una macchina più grossa e voluminosa. Una macchina come la R6 io riesco a tenerla così penzoloni solamente con le dita agganciate qua questa non ci riesco. Quindi questa qui devo sempre tenere il pollice dietro se no non mi sta in mano. Però devo dire che la sensazione di leggerezza che restituisce potrebbe in parte ripagarmi del fatto che il grip non sia voluminoso. Ultimo pezzo abbiamo la nostra batteria. Ora, abbiamo già parlato in passato di questa tipologia di batterie come qualcuno di voi ricorderà a me questa batteria non piace perché io sono abituato alle batterie di altre macchine io utilizzo abitualmente R6 per esempio sono abituato a quella batteria che è una batteria secondo me un po' più capiente però andremo a fare dei test perché una macchina come questa probabilmente ha meno prestazione di R6 e quindi magari la batteria va a durarmi un po' di più di quello che mi aspetto lo verificheremo. Andiamo a vedere che cos'altro c'è qui dentro perché qui abbiamo altro pacchettino altro regalo. Andiamo a vedere che cosa c'è in questo pacchettino e qui io lo so già che cos'è questa e qui abbiamo il 18-45 quindi ottica leggerissima devo dire con diverse parti in plastica anche dove magari ci si aspetterebbe una baionetta in metallo però va anche detto che su un'ottica così leggera io non credo che ci sia il problema del peso della robustezza ottica sicuramente molto molto piccola come potete vedere non dico che sia attascabile ma veramente poco ci manca quindi questo è un obiettivo è un corredo con cui possiamo andare in giro veramente leggeri poi vedremo insieme come performa faremo dei video dedicati per vedere anche come si comporta a questo proposito vi chiedo fin da subito approfittatene del fatto che ho qui questa strumentazione fatemi le domande adesso in maniera tale che se mi fate una domanda io contestualmente riesco a rispondervi se mi fate una domanda fra sei mesi io poi la restituirò questa strumentazione quindi non ce l'avrò più e farò più fatica a rispondere alle domande proseguiamo andiamo sull'ultimo ultimo pacchetto questa è una soluzione che si sono inventati con cui non mi danno le scatole con la strumentazione scatole che tanto non userei e che ingombrano tanto e incidono anche probabilmente sui costi di trasporto però così è una soluzione carina per mandare in giro lo stesso la roba sembra veramente natale andiamo a vedere che cos'è questo e questo è un 55210 anche questo vado a mostrarvelo al meglio delle mie possibilità e anche questo ragazzi devo dire è un obiettivo tutto sommato un minuto per la lunghezza focale che rappresenta devo dire il predecessore che io non ho mai posseduto ma sono abbastanza sicuro che fosse decisamente più voluminoso quindi qui abbiamo due ottiche decisamente ridotte come ingombri ora andiamo a vedere un attimo la baionetta sì anche in questo caso abbiamo a che fare con una baionetta di plastica anche in questo caso l'ottica ha un peso tale che sì la baionetta in metallo è bella e sicuramente fa tutta la figura che vogliamo diciamo che su una strumentazione di questo tipo io non mi scandalizzo eccessivamente per una baionetta di plastica perché pesa così poco che veramente non dovrebbe essercene bisogno andiamo a vedere quanto misura una volta esteso ok vedete che una volta esteso è meno di una spanna secondo me siamo sui 15 cm esteso cioè la mia spanna dovrebbe essere 22 quindi qualcosina di meno insomma è un'ottica assolutamente leggera piccola assolutamente portabile di nuovo anche su questa se e su tutto il corredo che abbiamo visto fin qui se avete domande io vi raccomando di farmele adesso finché ho la strumentazione a portata di mano in questi giorni testerò questa strumentazione quindi andremo a vedere durata della batteria andremo a vedere la resa di queste ottiche andremo a vedere le opzioni della macchina approfittatene fatemi delle domande visto che in questo momento ce l'ho in mio possesso vi posso rispondere più agevolmente se aspettate che io la restituisca poi farò più fatica a rispondervi perché dovrò basarmi sul ricordo che ne ho sulle specs che andrò a ripescare online oppure sui video che ho già girato però se mi fate le domande adesso è meglio insomma bene a questo punto però vi confesso che la curiosità è un po' quindi io vado subito a montare un'ottica così possiamo vedere il corpo così come si presenta diciamo nella sua guisa completa andiamo un attimo a capire qui abbiamo il vano per batteria e memory card nella stessa soluzione che è una cosa tipica dell'entry level sapete che le professionali o comunque le evolute hanno due sportelli separati per queste due cose in questo caso invece le troviamo tutte e due qui sotto proprio come era sull'iOS M50 una soluzione che a me non piaceva particolarmente vediamo qui sì allora qui un'altra cosa per cui io non vado matto hanno mantenuto la batteria con uno scalino che corrisponde proprio al fermo per farla entrare che è un qualcosa che secondo me rende un pochino difficile l'innesto di questa batteria niente di che come avete visto entra però è una roba che ho sempre trovato lievissimamente fastidiosa una volta inserita la batteria mettiamo anche la memory card chiudiamo e siamo pronti a lavorare ma questa batteria sfortunatamente avete assistito a un unboxing vero e quindi questa batteria al momento probabilmente è scarica invece no si accende e mi dice imposta la lente in posizione di scatto questo mi fa capire che qui siamo in posizione di sicura quindi io adesso quello che devo andare a fare è clic vado ad aprire l'ottica hai capito quindi quando è chiusa è più piccola poi quando è in funzione è un pochettino più grande beh a questo punto fatemici guardare dentro sì infatti è proprio così infatti il display funziona correttamente l'oculare funziona correttamente lo zoom funziona correttamente signori io adesso la spengo perché vado a metterla in carica in quanto nei prossimi giorni testerò questa strumentazione vedremo anche dei video perché realizzerò anche dei video fatti apposta con questa proprio per farvi vedere come performa ribadisco fatemi le domande adesso che ce l'ho in mio possesso in maniera tale che io sia in grado di rispondere andremo a cercare di capire per chi è questo tipo di strumentazione andremo a vedere se questo può essere il corredo giusto per le vostre esigenze e guardate che può esserlo benissimo perché comunque stiamo parlando di una macchina piccola leggera probabilmente con poche pretese rispetto ad altre cose soprattutto che ho già in mio possesso però in taluni contesti secondo me può essere la soluzione ideale perché viste le dimensioni l'ingombro ridotto e anche la fascia di prezzo può decisamente essere una soluzione interessante per taluni fotografi o in taluni contesti a questo punto io vi chiedo fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate qualcuno di voi ce l'ha già state pensando di prenderla come vi siete trovati avete domande a riguardo ci vediamo come sempre nei commenti vi ricordo anche di iscrivervi io e Canon vi diamo come sempre appuntamento al prossimo video ciao